e quindi calcio d'angolo per il Monza Stoian Stefanov Stoianov palla intanto in verticale con Ferraris che arriva proprio su Stoianov mantiene il possesso del pallone poi cerca una giocata che non gli riesce Graziano, Ferraris Stoianov in mezzo alla traiettoria non riesce a risolvere il pallone ce la fa adesso mette giù ancora Stoianov Boccia si fa vedere Largo Mesar ne è entrato Stoianov Antonovic Stoianov si piazza davanti che va al tentativo di palla in verticale Graziano, Marras dentro si fa vedere Ferraris Nathan Fernandez in incontro calcio d'angolo battuto sul primo palo tentativo sapevolezza un po' di fiducia dopo il gol del 1-1 per il Frosinone con Mesarx qualcosa evidente ci si prova a arrivare in anticipo su Nathan Fernandez Stoianov tentativo di rimettere giù il pallone con Boncina che ne era il destinatario Cagio si rialzato intanto Boncina Rugarello ci sono non tali forse da giustificare forse cambio a questo punto per Kamen Seikpaic per Isai per Retta Macei Boncina di andare via Cagia altra trattenuta non sanzionata ancora Boncina buona buona